Telecamere anche nella zona sud di ricorso video, lo chiedono gli esercenti dopo la notizia battura da Onda Tg sull'arrivo di nuove telecamere per l'operazione sicurezza che a breve scatterà nella città di Sulmona. Da più parti si plaude, si incita, si sollecita l'amministrazione comunale ad accelerare le operazioni per addivenire una Sulmona più sicura, ma il centro storico ha bisogno anche delle sue telecamere, hanno ribadito gli esercenti del corso video sud. Ma vediamo le opinioni dei cittadini che sono state al centro della nostra raccolta di opinioni. Credo che sia una scelta abbastanza condivisa, soprattutto in alcuni punti chiave bisognerebbe assicurarsi che ci sia un controllo più attento del territorio. Ci vuole uno sì, a me non si sa qualcosa di buono. E la città è controllata di più. Sì, è sempre meglio avere un occhio in più, diciamo. Sicuramente ci vuole perché è un ottimo deterrente. Ancora una volta è stata dimenticata la zona di corso video sud. Non ci saranno. Credo, da quello che mi risulta, non ci saranno. Beh, anche qui nella zona sud aspettiamo con fiducia che vengano messe. Grazie. Grazie. Grazie.